Benvenuti su FIFA 19, prima amichevole con un mio fan allo stadio San Siro, sfido André FC che usa una squadra pressoché italiana contro la mia squadra che è inglese praticamente sono imbattuto online, cioè nessuno mi ha mai battuto in un amichevole online tra iscritti nooo cosa ho sbagliato guarda e Donnarumma è lungo buona ballone interessante attenzione è il gol la tirazione alla pianta e vabbè ho finito dai puoi ancora recuperare certi pezzi hanno trovato il gol poco prima della tira del primo tempo può essere un'attività e questo è un gol molto importante per i morali c'è il segnale dell'arbitro comincia il secondo tempo sa starage cercano spazi starage ohhhh ohhhh non mollare dai oh no oh no oh no bravo qui il difensore che legge bene questo pallone Herrera oh che voglia non riesce a bloccare attenzione cercano col tiki taka il momento giusto intervento tempestivo del difensore che traccetta il passaggio Goulam buona avventura gran palla in mezzo occhio all'occasione per riaprire il match e la messa e la messa ci attende un finale rovente hanno ancora un gol da recuperare e vedremo se riuscivano a completare la rimonta nei minuti che restano da giocare nessuna traiettoria nessun problema bello tempo scaduto arriva il triplice pischio del direttore di gara guarda ragazzi il gol l'hai fatto hanno vinto una partita importante per il resto della stagione e tutto sommato non hai poi fatto così male come ti è sembrata la gara di starridge quest'oggi cosa dici? ci sono il risultato finale andando a segno e contribuendo la vitale del voglio dire vediamo le statistiche cosa dici se voglio un altro giorno lo riparerò ok beh dai hai fatto tre tre importi e un gol quindi sei stato tu hai sfruttato bene o male la tua occasione che hai avuto poi poteva anche finire più largo il punteggio però vabbè dai la prossima volta magari andrà meglio dai prima o poi ce lo farai ok